Perché vi siete incatenati? Ci siamo incatenati perché siamo stanchi di aspettare lo Stato che ci ha chiuso in casa che non ci fa lavorare. Siamo incatenati per dire basta a questo grande blef quindi non ci muoviamo da qua se non abbiamo gli stessi diritti. Basta con questa paura basta con questo lì allora perché sei qui in piazza adesso non abbiamo più nulla perché si ha creato un'altra parte con l'amore di questo si troverà il sud del toro. E' qua, e' qua, e' qua, e' qua, e' qua Grazie a tutti 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 Grazie a tutti